è ormai unanimamente riconosciuto che la cura psicologica è una cura che usa la relazione come strumento privilegiato se dunque la relazione che cura la personalità del terapeuta è un elemento molto importante in questo processo non a caso freud si è sempre chiesto cosa succede quando i bisogni inconsci del terapeuta che lui chiama le macchie cieche si incontrano con il bisogno senza nome del paziente nella macchia cieca del terapeuta si trovano quelle aree psicologiche non rappresentate simbolicamente che possono impedire al terapeuta di riconoscere il bisogno del paziente che viene espresso nel transfert si tratta di contenuti non pensati e non rappresentati che quindi sono muti e ciechi e proprio per questo tenderanno all'agito del resto il transfert ha luogo in un continuo scambio tra comunicazioni dell'inconscio del paziente e l'inconscio del terapeuta ed è qualcosa che sebbene sia provocato dal paziente non appartiene propriamente né all'uno né all'altro ma viene chiamato ad apparire sulla scena del setting tra i protagonisti della relazione nel loro inconscio come spiega semi riprendendo freud dunque il transfert sta sia dentro e sia tra il terapeuta ed il paziente freud sosteneva che il terapeuta deve rivolgere il proprio inconscio come un organo ricevente verso l'inconscio del malato che trasmette dunque il terapeuta deve disporsi come il ricevitore del telefono rispetto al microfono trasmittente del paziente che gli comunica i suoi derivati inconsci attraverso le associazioni libere i sogni le fantasie i lapsus quindi ponendosi in una condizione di attenzione attenzione fluttuante il terapeuta si dispone a ricevere i pensieri gli affetti inconsci del paziente per ospitarli nel proprio inconscio freud ci mette in guardia sulle difficoltà derivanti dal fatto che il terapeuta stesso possiede nel proprio inconscio delle macchie cieche che ostacolano la sua percezione analitica impedendogli di riconoscere determinati moti inconsci sia propri che del paziente ecco perché già nel 1910 freud afferma che ogni psicoanalista procede esattamente fin dove glielo consentono i suoi complessi e le sue resistenze interne e che per questo motivo deve iniziare la sua attività con un'autoanalisi che andrà poi continuamente approfondita nel corso del suo lavoro solo così il terapeuta potrà essere consapevole dell'esistenza di punti ciechi che lui stesso non conosce altrimenti rischia di esserne succube come ricorda semi il problema sta nel riconoscere il transfert e nel poterlo giocare senza esserne giocati nell'ambito delle comunicazioni inconsce tra i due membri della coppia analitica i materiali inconsci del paziente si collocano nell'inconscio del terapeuta abitandolo dall'interno in questo senso il transfert viene viene rappresentato da freud come l'estraneo come lo sconosciuto che si manifesta dentro al terapeuta il quale si viene così a trovare nella curiosa situazione di ospitare qualcuno che lo fa pensare e nello stesso tempo si deve rendere conto di essere pensato e dunque deve poter osservare il proprio inconscio come espressione del pensiero di un altro la domanda che si pone allora il terapeuta mettendo da parte il proprio narcisismo sarebbe questa chi sta pensando dentro di me il terapeuta dovrebbe saper riconoscere che chi sta pensando nel suo inconscio è il paziente e dovrebbe considerare le proprie produzioni intellettuali affettive come comunicazione dell'inconscio del paziente ma il terapeuta può anche non accorgersi di ciò e credere che quel determinato pensiero sia un suo pensiero e non un pensiero che il paziente lo ha portato a fare così facendosi attribuirà illegittimamente la proprietà di quegli affetti non riconoscendoli come comunicazione proveniente dall'inconscio del paziente in questo senso il contro transfert come fenomeno inconsapevole impedisce la possibilità di comprensione del transfert che non viene più riconosciuto come un ospite estraneo e la terapia rischia di arenarsi quest'ottica ci interessa perché i bisogni irrappresentabili del paziente si esprimono proprio nel transfert se il transfert non viene riconosciuto come tale e il terapeuta risponde narcisisticamente e quindi difensivamente allora il contro transfert si manifesta come fenomeno che blocca ogni possibilità rappresentativa dell'apparato psichico del terapeuta che non può distinguere i propri pensieri e i propri affetti da quelli del paziente e la consapevolezza del contro transfert che permette al terapeuta di distinguere i propri affetti da quelli del suo paziente dunque transfert e contro transfert sono un po come degli estranei che abitano il terapeuta a sua insaputa e sono legati ai suoi conflitti inconsci ovvero alle sue macchie cieche che se restano tali non permettono di cogliere il bisogno del paziente il terapeuta deve poter riconoscere al suo interno i contenuti inconsci del paziente per renderli rappresentabili se invece il terapeuta non riconosce in lui questi bisogni non li può restituire metabolizzati e pensati al suo paziente le macchie cieche di cui parla freud sono luoghi della psiche non ancora colonizzati dai pensieri sono luoghi rimasti senza parole ovvero delle immagini vaghe sono affetti e sensazioni nei quali regna sovrano il preverbale e non è possibile nessuna alfabetizzazione e allora rendere pensabile l'impensabile come diceva pontalis è possibile solo utilizzando in prestito immagini già masticate oppure fotografie o dipinti ora cosa succede ai bisogni senza nome quelli non riconosciuti quelli mai visti e mai pensati succede che agiscono ad insaputa del soggetto ecco perché è di fondamentale importanza che il terapeuta possa alfabetizzare questo mondo preverbale dando un attestato di legittimità ai pensieri non pensati da ciò si capisce la posizione della coppia analitica che si cimenta con la vita e con la morte nel rischio di naufragare ma con una grande opportunità di riscatto che passa attraverso alcune fasi caratteristiche ricordare ripetere e rielaborare infatti cosa fa il transfert il transfert è il mezzo principale per imbrigliare la compulsione a ripetere del paziente trasformandola in un motivo per ricordare in terapia si cerca di rendere utile questa compulsione dandole modo di affermarsi in un ambito ben definito che è quello del setting la compulsione viene così immessa nel transfert come in un campo di gioco nel quale la si lascia espandere in libertà perché possa rivelare tutte le pulsioni patogene nascoste nella psiche del paziente così si esprime freud in questa fase la soggettività del paziente non si è ancora strutturata jung direbbe che non si è individuata in quanto è ancora intrisa di quella miscela tra io e altro in cui non si sa dove inizia l'uno e finisce l'altro il terapeuta allora ha il compito di trasformarsi in una madre ambiente che possa accogliere il bisogno senza nome del paziente molti psicanalisti si sono interrogati su come il terapeuta possa farsi oggetto del bisogno del paziente e dunque su come lasciarsi mangiare rimanendo vivi e dallo stesso tempo un po' come il famoso nessuno di ulisse infatti nel disporsi a ricevere i contenuti dell'inconscio del paziente il terapeuta deve saper sostare pazientemente in territori aridi e ostili deve stare al fianco del paziente insieme a lui in uno scenario privo di parole e di pensieri ragalbuto ci ricorda che il terapeuta non deve temere il vuoto in quanto qualcosa di irrappresentabile perché il vuoto come una scena bianca sarà il preludio ad ogni nuova rappresentazione affettiva certo non è un'impresa facile attraversare il deserto senza neanche sapere quanto lungo sarà il tragitto oltre al vuoto ed all'assenza il terapeuta si può imbattere nei suoi bisogni più antichi e voraci che non sono mai stati addomesticati dal pensiero ma anche in questo caso il terapeuta dovrebbe essere stato addestrato a lasciarsi abitare dal trauma a lasciarsi attraversare dai fantasmi dal vuoto ideativo dalla mancanza di rappresentazioni e deve porsi in un'attesa ricettiva e sognante in altre parole il terapeuta deve saper cogliere il bello del deserto e per fare questo deve disporsi con un animo poetico da artista e quindi con un atteggiamento fiducioso questo tipo di lavoro come ci ricorda era calbuto comporta la capacità del terapeuta di restare sul limite per gettare un ponte tra il rappresentato e l'irrappresentabile tra la coscienza e l'inconscio o tra l'inferno e il paradiso come direbbe carotenuto saper restare sul limite significa anche rimandare l'interpretazione questo è il tema dell'analisi selvaggia quando il terapeuta interpreta a tutti i costi glover ammonisce il terapeuta da questo rischio e si riferisce in particolare a pazienti per i quali il registro del simbolico è ancora inaccessibile in questi casi il rischio compare quando sparisce il limite tra vedere e agire tra il dire e il fare e quel vuoto necessario si satura di concretezza e lo spazio analitico collassa vanificando la differenza tra il simbolo e l'oggetto gabbard fa un esempio eloquente di una paziente che nella sua infanzia aveva avuto una relazione sessuale incestuosa con il padre e trasferisce nell'inconscio del terapeuta aspetti di sé abusanti che questi non riconosce come appartenenti allo scenario trasferale e passa all'agito cade dunque la dimensione del come sé e il terapeuta incarna il ruolo del padre attualizzando un trauma infantile invece di darvi contenimento attraverso il processo analitico quindi il terapeuta non rappresenta più l'oggetto ma diventa l'oggetto d'amore in osservazioni sull'amore di transfert freud spiega che tali agiti hanno a che fare con problematiche narcisistiche non risolte nel terapeuta nel momento in cui il terapeuta agisce il transfert non viene compreso e si perde il come sé della dimensione analitica il gioco simbolico collassa nel reale il transfert non viene riconosciuto come l'estraneo che il terapeuta ospita nel proprio inconscio ma viene sperimentato come una parte di sé allora il rischio è che il transfert si trasformi in un padrone esigente o come dice semi in un regista sarcastico che obbliga gli attori ad umiliarsi sino al disconoscimento di sé qui il terapeuta come dice antonelli dovrebbe saper morire a sé stesso per fare spazio all'altro ma ciò implica che il terapeuta sappia tollerare la sua ferita narcisistica restando sul piano simbolico e non su quello reale se il terapeuta diventa realmente la madre o il padre non riconoscerà più il bisogno del paziente di ripetere trasferendo su di lui i propri scenari interni da rappresentare e poi da interpretare perché sarà totalmente identificato con quello che il paziente fa di lui il terapeuta deve invece mantenere uno spartiacque tra sé e l'altro un agente separante che diventa spazio vitale e creativo per fare questo il terapeuta dovrebbe essere consapevole dei suoi bisogni e del suo assetto interno per non tradire quel principio fondamentale che freud chiama astinenza ed ecco la domanda di cremerius quello che faccio lo faccio perché ne ho bisogno io o perché giova al paziente una domanda che deve guidare l'autoanalisi del terapeuta per giungere alla conclusione dell'esistenza di eventuali macchie cecche e di contenuti non ancora analizzati il terapeuta sa farsi da parte sacrifica la propria gratificazione perché sa che l'eccesso di narcisismo e di onnipotenza nel sentirsi l'unico in grado di salvare il paziente gli farebbero fraintendere i reali bisogni del paziente il terapeuta deve saper essere nessuno come nessuno era ulisse per il ciclope nessuno eppure qualcuno non una persona particolare ma una persona viva agli occhi del paziente che accetti di essere per lui uno strumento rinunciando ad una parte dell'espressione della sua soggettività e ponendosi non come soggetto salvifico ma come soggetto affidabile come dice tanopulos senza dimenticarsi mai il dolore delle proprie ferite e i resti non analizzati del resto ci sono aspetti dell'esperienza del paziente che il terapeuta non può comprendere senza la riattivazione di un dolore dentro se stesso è il concetto di ferita feritoia di carotenuto l'altro è licita in noi vicende personali antichi conflitti bisogni residui che parevano essere superati e che ripresentandosi sono sia fonte di dolore e sia occasione per porgervi lo sguardo e attraverso l'autoanalisi riconoscere che è nostro è nostro proprio quello che viene dall'altro come dice semi questo fenomeno ci rende un inestimabile servizio quello di trasformare in attuali e manifesti gli impulsi erotici dimenticati del paziente e nel fare questo il terapeuta assomiglia ad una buona madre che tiene dentro di sé parti del bambino che lui non è ancora in grado di rappresentare e che quindi deve essere lei a pensare e a alfabetizzare la madre è comunque investita dagli affetti e dai bisogni del bambino e per poterli restituire in forma più digeribile deve essere in grado di riconoscerli come altro da sé mettendosi al servizio del bambino che non dispone ancora di questa capacità di simbolizzazione ora come dice bene bion la possibilità di metaforizzare le esperienze del bambino nel mentre la si riflette si significa di fatto sognare questa esperienza con il tempo il bambino interiorizzerà questa capacità allo stesso modo il lavoro analitico permetterà al paziente di sviluppare la capacità di pensare i suoi pensieri dunque il terapeuta si trova a desiderare il desiderio dell'altro abbandonando temporaneamente il proprio perché questa è la condizione che lo mette in contatto con un altro senza la propria memoria il proprio desiderio restando appunto recettivo e disponendosi a sognare i sogni interrotti o i sogni non sognati del suo paziente come dice ciccivi terese e allora il transfert consente di sostare dentro il mondo interno del paziente e di aprirci una finestra sull'originario la potenza del transfert è tale da rischiare di accecare il terapeuta perdendo così la possibilità di dare voce ai bisogni non ancora pensati che si trovano in un luogo intermedio si trovano in un luogo di passaggio cioè di transizione a metà tra la vita alla morte e allora possiamo concludere con jung che dice tutto questo lo dice in modo magistrale affermando che si diventa ciò che accade nel mezzo in bocca al lupo grazie a tutti